Allora, non lì, ma, ah però lì non lo sente Qui Qui Perfetto Ora Vediamo un po' come va Dai, e... Opa la la Oh, finalmente Finalmente Kabuki si sta rivelando molto utile Certo che non serva una sega contro qualcosa là dietro Ok Potrei sparare un colpo Però così mi spreco l'ultimo colpo di fucile che ho E vorrei tenermelo per situazioni d'emergenza Quante... Ah, tu non hai tra l'altro il... Ok, vai a prenderti anche tu questo E poi mo' ne studiamo un colpo Vado a prendere E tu vuoi questo, no? Vado a prendere Allora, vediamo un poco Se io Lancio Ah, ogni colpo conta Ogni morso conta Allora, iniziamo a farlo avvicinare un pelino Minchia, lì c'è la trappola Un bel premio, è quella trappola, santo cielo È veramente un bel premio Contando quanti pochi strawette ci sono in giro Cioè, oddio, ce ne sono, eh, ma non così tanti Vediamo un attimino Qual è già il range Allora, mi serve che tu Allora vieni qui Mentre tu Vieni qui Perfetto Perfetto Andiamo a salvare la poveretta Quel poveretto là dietro che non è poi niente, ma Gli sono state triturate le palle fino adesso a ascoltare loro che parlavano Distrai lui Tu No, vieni qua, va Per favore, tiragli solo un pugno tu intanto Perfetto E tu Ammazzala Dopodiché Perfetto Sgozzato malamente Dopodiché tu vieni a ammazzare lei E ti riprendi la trappola Bene, loro si nascondono Ok Bom Tutti andati Finalmente la trappola ce l'abbiamo Ci manca ancora il Quindi questo qua col Con i fischiettoli Questa credo sia un'ottima via di fuga Però Ci manca ancora di recuperarne uno Ecco un attimo Cosa dobbiamo fare? Libera Ico Dobbiamo trovare qualcuno che lo aiuti Vediamo un pochettino Dov'è il nostro Mug E' un amore Allora Qui no Qui non è rimasta Molta roba Qui c'è il morto E cazzo è finito il tipo con il Ah, è lì sotto E vabbè Usiamo lei, dai Sì, questi moriranno molto facilmente Possibile che qua sopra non ci sia veramente nessuno Ma tutto vuoto a quanto pare Vediamo un poco Ah, dobbiamo farlo semplicemente riprendere Era qua Mugen Era facile da trovare in realtà Dai, su Trovare l'equipaggiamento di Mugen Vabbò Intanto Andiamo ad ammazzare questi due tipi qua sotto Ce ne sono addirittura tre Però Allora Prima andiamo a ammazzare lui E poi ammazziamo loro Oh, lei Aprete questa porta? Sì Con velocità Possibilmente Ok Vieni qui E tu Vieni qui Vabbè Non servite tutte e due No, no Fai venire lei No, tu rimani dove stai Tu non hai la tua arma Tanto cielo Sei praticamente inutile Perché non me lo fa aprire? Ah, non mi posso Non posso aprirla? Io come scendo là sotto, ad esempio? Figli di buona donna Io là sotto come scendo? Ah, bisogna probabilmente di Mugen Oh, cazzo Quindi niente flauto Che palle Allora C'è lui Da poter stendere E poi cos'altro possiamo ancora fare? Niente Abbiamo finito tutto Ci sono ancora loro due Che però francamente Ce ne possiamo anche sbattere le palle E il lavoro è fatto Ok Cosa posso fare? Senti Venite tutti qua Va Anche tu Vieni qui E tu Vieni qui Ah no, vieni qua anche tu Vieni vicino a lui, va Tu Vieni vicino a lui Maestro samurai Why are we waiting Time to move Ready as always Bene Dovremmo averlo finito allora Probabilmente bisogna portarli solo in zona Ecco infatti You You Voi Voi siete ancora vivi? Mio amore Cos'è successo al figlio Dello shogun? Noburo l'ha ucciso? Ah Il suo figlio l'ha fatto Ah Così tanto oscurità Lo faremo pagare per questo Vieni con noi Non vi posso accompagnare ancora Mugen Ho fallito Ryunusuke Ho fallito con il mio shogun Ora devo chiedere il vostro perdono Cosa sta dicendo? Quando samurai Ha subito vergogna Pensa di dover Cosa? No maestro samurai Ovviamente non ucciderci Yuki-chan Non lasciatelo fare Non voglio che lui muoia Proviamo la stessa cosa Yuki-chan Ma non lo vedi? Morire come un samurai È l'unica cosa che gli è rimasta Dobbiamo mostrargli rispetto Perché non possiamo fare niente per lui Vuoi che mi unisca a te? Amore Ne sarei onorato Ma hanno bisogno di te più di tutto Allora permettimi di dare un ultimo dono Un segreto Solo per te Qualcosa alla fine Finisce Qualcosa inizia E così deve essere È incinta Addio amore mio Ma dai ma sul serio Il tempo è giunto Mugen Ayato-san Ayato-san Sono contento che ci siamo incontrati È stato un onore combattere al tuo fianco Anche per me Ayato-san Addio No Mugen-sama Yuki No Ferito su un viaggio Il mio sogno Se ne va Sopra Sopra i campi Campi di speranza No ma su serio Ho dovuto anche schiacciare Per farlo ammazzare Oh mio Dio Non ci credo Ma che cosa orribile Ma che cosa orribile Ma povero Lui è morto per permettere a noi di vivere Non siamo ancora sicuri Abbandoniamo questo posto Vabbè Tu rimettiti il vestito E facciamo quello che dobbiamo fare Non esitare Chi è quello che vede più lontano Tu O tu Dubbiamente tu Va bene Portalo magari via Dopodichè Rimettiti il vestito Vieni qua dietro Facciamo venire lei Quanto mi spiace però Dai Ok Tu vieni a riprenderti il tuo No scusami Mentre ora riprendere qua Perfetto Dai su Uno Due Tre Andiamo Ce ne va Ah cazzo Non me ne posso ancora andare C'è ancora della strada a fare Credevo fosse molto più facile Ma venitevi qua a nascondere No ma sono scioccato dalla morte di Mugen Sono veramente scioccato dalla morte di Mugen Va bene vediamo un pochettino Ci sono queste tre guardie Che fanno avanti e indietro E che probabilmente lei potrebbe distrarre da qualche parte Sono più di tre guardie C'è lui Che poi tanto abbiamo già fatto partire l'allarme Quindi potrei in realtà girare Ammazzarli Con la spia quando partiva l'allarme Mi ricordo che facevo così a un certo punto Ok Lui è morto E noi intanto ce ne sbattiamo le palle Però possono anche vederlo morto Tanto Bravi vedetelo morto E poi che fate? Guarda ne è uscito un altro però Vabbè non è un problema per ora Lui è arrivato in più Ah ecco la spada di Hayato Quella che mancava ancora E qua la sua La sua stella ninja Ok E un altro noto giù Perfetto Vediamo un pelino Se riesco ad ammazzarne ancora un po' Ok Assolutamente pulita come cosa Pulita per niente Allora stanno girando cercando di capire chi ammazza Bene Ho aperto un passaggio Allora Allora ci dovrebbe essere uno qua sopra Che probabilmente controlla lui Perfetto infatti Perfetto così Hoppala Pa pa pero Pa 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 Direi che non è male Come cosa Giusto che lei si prenda la sua vendetta Visto che hanno ucciso il suo amore Questo ci sta seguendo E quindi morirà per primo No Perché quello lì ci spiava Va bene uguale Non importa Mi sarebbe piaciuto Vederlo morire per primo Ma C'è quello stronzo Che ci controlla Cazzo di Buddha Ci vedono ogni volta Quindi c'è qualcuno che in realtà si volta Però se tutto va bene invece tu Non sei visto Perfetto Ciao è stato un piacere È stato Sta facendo veramente la Sta facendo un massacro allucinante Sta facendo un massacro allucinante Questo mi ricordo veramente Quando Commandos con la spia Faceva la stessa cosa Quando scattava l'allarme La spia diventava un must Che loro vedevano girare questo Tranquillamente Vestito da ufficiale Qui la vedono girare Vestita da puttana Ma va bene uguale Tu qua su Tanto non vedi Preparati Appena si volta Ti sorpassa È stato un piacere anche per te Perfetto Adesso torniamo giù Ammazziamo lui Ci sono ancora quelle tre guardie lì Questo ovviamente non può ucciderle lui Ma pazienza Faremo fare il lavoro sporco a qualcun altro Puffala È stato un grosso piacere fino adesso Vediamo un poco Perfetto Anche lui è andato Cercano l'impronte Ma non trovano niente Perché ovviamente portano a me Che Sono vestita da geisha Sembra una ragazzina qualunque Una donna qualunque Dai su però Spostati Dai però Sei un cretino Va bene Dopo devo aspettare quindi che faccia il doppio giro Qui ce n'è un altro Però non capisco dove sia Piano di sotto Ah piano di sotto Perfetto Abbiamo detto che questo non riesce a farlo No Invece sei riuscito a farlo benissimo Fantastico Perfetto Vabbè lui ha trovato quello Adesso corre a rinvertirli Ma pappero Questo c'era ancora lui Niente l'avevo neanche visto Se non l'avrei già ucciso prima Probabilmente E tu civile ti stogli dal cazzo Magari Così posso uccidere lui Ma quanti ne stiamo ammazzando bene Questi qua Poi magari Poi magari Bravissima E vediamo se adesso magari Fa anche portare via Ok Dove è il maestro samurai? E dove che si è morto Poveretto Ok Ok Ho visto un altro corpo He's dead He's unconscious Uno è senza conoscenza L'altro è morto Ok Lui è scappato Ah Ne è uscito un altro Tra l'altro Quindi quello lì Si va a piazzare Fisso lì Da lì ne escono Quindi un po' all'infinito Piazziamola Velocemente Magari Ti ho vista Chi è che ci ha visto Tra l'altro Hai intornato un altro Lassopra Pronti a morire una? Ops E uno è andato Andiamo intanto Magari a uccidere lui Un po' sopra No vieni solo qua per ora Magari lo uccidiamo Tu invece Perfetto E Opa là Grazie No cazzo Non sono stato abbastanza veloce E adesso poi ne piazziamo un altro Vediamo solo la strada che fanno esattamente Così non mi sbaglio Passano esattamente Alla sinistra del corpo Cioè alla mia destra Alla sinistra del corpo stesso Perfetto Perfetto Recupera questa E poi ripiazzala No Questo lascialo dove sta Prendi questa E la metti Qui Dov'è che cazzo Ho molto sbagliato Beh Vai pure E Pluk Ha ha Povera Benissimo E se tutto va bene Viene qua Lo ammazziamo Ah non è arrivato un altro Qua dietro Opa là Perfetto Atticamente Lei ha lo scopo Di tenere pulito il tutto Praticamente Ah vieni qua Apri sta porta Grazie Tu invece Sei in piedi No ma bastati Ovviamente E vieni a recuperarti La tua roba va Vieni qui No 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 Torna qui Stai attento Yotosan Concentrati Beh li abbiamo Forse eliminati Tutti Perfetto Andiamo ancora A ammazzare lui Ah però Poi c'è la donna Lasciamo stare un attimino Allora la ferma Andiamo a recuperare Gli oggetti Poi c'è la donna Che ancora rompe le palle Perfetto Vai a prenderti la Lo shuriken Cazzo però La sotto Di nuovo vivo Andiamo a riprenderci anche a questa Il problema è che La sotto C'è Un samurai Quindi il giochino È un po' finito Beh oddio Non è vero Perché poi posso scendere di qua E ricontinuare il gioco Dall'altra parte Quindi direi che Non è proprio finito Del tutto il gioco Sono ancora qui Due samurai Della minchia Ma Perfetto Hai preso la tua spada Magari Per favore Prendi la tua spada Invece che prendere Corpi a caso Ok Recupera sta spada Finalmente Va bene Allora Vieni giù No Rimani lì un secondo Tu È tutto va bene Mo Diamo un colpo a lei Uccidiamo lui Dopodichè Veniamo a prendere Lui Lei E la andiamo a portare Vicino a una porta In questo modo Dovrebbe finire Tu Sì dai Vieni giù Puoi anche improvvisare In maniera Semplice Tu Vieni a recuperare La tua Cosa Perfetto Molto bene Mi è sempre piaciuto Un sacco Usare le spie Ok Perfetto Così Questi sono amichevoli Benissimo Così se tutto va bene Non ci diranno nulla Cazzo Dove salto qua E Opa Grazie mille Va bene Butta giù Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace E se volete vedere Altri gameplay Di Shadow Tactics Se non lo siete già Iscrivetevi al canale Grazie mille Grazie mille